Ok Quindi già vedi quei pezzi montati così? Sotto c'è un altro pezzo di plastica Ah solo l'appoggio con la parte gialla lì no? Poi cominci a mettere i buchetti, intercalando? Una volta qua adesso. Puoi fare come vuoi comunque mi sembra, prima avevamo fatto uno se no no. Quindi puoi fare intercalato o no? E fiori. Vai clic. Puoi vedere? Fa il rilevo praticamente. Con un po' attenzione che questo è un po' fragile. Però va bene. Ottimo. Quando ti sarà i Gabbiani, io mi se lì spaventa con il riflesso del sole. Puoi vedere? 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 Puoi vedere?